Bella a tutti ragazzi In un nuovo video Dopo la fantastica apertura di prima dove ho trovato questo bellissimo gen ex che senza l'aiuto di mio cugino Luca lo avrei lasciato la so che l'ho preso visto che magari io ragazzi ho pensato sta a vedere che la ex la lascio lì e infatti guardate cosa c'era quel pacchetto Conveniva visto Ho fatto bene appena ragazzi Quindi ragazzi ora in questo pacchetto che è mia cugina se non trovo nulla me ne frego perché ho questo e poi ne abbiamo un altro è qui sotto Bene ragazzi apriamo anche questo Ok vale 30 euro al fine ho ricevuto più di 20 euro Io questa volevo Finalmente ho trovato una Apriamo anche questo Ma se c'è una text Non Ragazzi stavolta sono stati fortunatissimi Sì E vale anche tanto quella carta ragazzi 30 euro una Che diamo? Boh non c'ha più niente Ma vabbè Madonna Sembra incollato Mi parte tutto Ragazzi adesso io Sì spero di trovare qualcun'altro Ma se non trovo niente se ne frega Questa è la rara e la rara Non guardate Non guarda nessuno Ok Vai Allora Swablu Bravissimo Electric Bravissimo Ma... Ma non avevamo Magica Magica Gible Gible Timbole Sae... 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 Eew Skiplom Bravissimo Co-to-ri-ta Che la le diverse Eh niente ma vabbè da che se ne frega Guarda che rara stupida diciamo Ma è bella però Guardate A me Questo è l'arra del mio cugino Qui Samua Ma questo percato ha fatto un po' schiù perché è una rara normale Ma vabbè dai Ciao Adesso apriamo l'altro Scusate ora apriamo l'ultimo Sì Tanto ho mai ritrovato questo Se ne frega Vedi queste sono due un po' buttate Guarda Me lo dai? Sì sì ma non piace Ragazzi Ultima bustina Peccato si prenderà Che non vabbè Io vorrei almeno un'olografica Brava fai uovo ma che trovi una bella carta Guardate abbiamo fatto Abbiamo fatto un casino Ce l'ho fatta ragazzi scusate Una, due, tre Però un po' dopo quella lì Visto che c'è una carta bella Ok Ultimo pacchetto Allora Le giro tu Abbiamo Scusate se si vede un po' male ragazzi Facciamo veloce Abbiamo Kangaskhan Pedius Poi abbiamo Porygon Porgon Squirtle Sì Aaron Guardate avrebbe trovata una Anche figo Allenatore Forse il piume Tropius Tropius Allenatore E invertitore La reverse è Eh L'ex non c'è perché ho trovato questa Fata Meglio che niente dai Che cos'è questa? E' una specie di carta sempre rare Ragazzi Allora capitolando abbiamo trovato In due pacchetti di espositori plasma Nella pasca rigida che porta una fortuna Un bel Un bel Assotatico E un bel Genex Ex Bellissimo ragazzi Un'apertura stupenda Nemmeno mai da un mese che non trovavo Ex Bene ora vi atteniamo della nuova serie Ciao a tutti Grazie Grazie Grazie